buonasera tra un quattro e cinque gradi fuori c'è caldo di francesi ma sta seccata al freddo stesso ma come dicevo prima presto che tardi le di cost le distraccone di nastrino le di kitzune ormai ribattezzate il mio harem spiritico salutano un altro ciac si evoca un po più leggero un po più carino lo trovate con tutti i sottotitoli in italiano su rakuten wiki e lo trovate sotto al titolo inglese di new life begins di cosa parla nove stati della cina antica hanno stabilito dei patti di reciproco aiuto e di non belligeranza ovvero di non guerra tra di loro questi nove stati sono capitanati dallo stato più potente a livello di armistizia a livello di moneta sonante quindi di guadagno di oro e di forza militare il regno di xin i regni ve li nomino in italiano altrimenti non si capirebbe la differenza il regno di xin è il regno che mantiene l'ordine tra i nove e dai tempi in cui i nove regni vennero riuniti gli uni con gli altri c'è l'usanza di mantenere i buoni rapporti tra stati facendo dei veri e propri concorsi tra le figlie dei vari ministeri o dei vari reggenti dei vari stati da dare in sposa da dare in moglie ai vari principi del regno di xin o nel caso di figlie femmine del regno di xin darle in sposa ai principi degli altri paesi questi paesi seppur siano tutti collegati da patti appunto di non belligeranza da patti di aiuto reciproco e di pace all'interno di essi hanno le gestioni dei loro regni estremamente diversi gli uni dagli altri in particolare lo stato di jin è uno stato di natura rurale sono quasi tutti coltivatori non sono ricchi ma forniscono anche agli altri stati i beni di prima necessità ovvero le coltivazioni lo stato di dan è uno stato di natura matriarcale lì sono le donne al potere e gli uomini stanno a casa e servono le loro mogli anche lì ci sono gli arem ma gli arem sono fatti di mariti mentre la moglie è univoca l'esercito è femminile le cariche di stato sono femminili e il tutto si svolge in questo ambiente nel quale la donna comanda e l'uomo ubbidisce lo stato di mo lo stato di mo è forse il più gretto a livello di rapporti interpersonali sono molto rudi sono popoli nomadi seppur viaggino all'interno della loro stessa nazione senza uscirne ma hanno una concezione della gestione sociale in cui vige la legge del più forte non importa che sia donna o che sia uomo non importa la sua estrazione sociale seppur ci siano dei capi che regolano le varie tribù l'importante è che sia forte per cui nello stato di mo si troveranno dei dirigenti dei proprietari dei ministri donna dei ministri uomo le case le famiglie saranno mischiati ci sarà quell'uomo che ha tre quattro mogli ovvero una moglie ufficiale e tre quattro concubine ci sarà la donna che ha invece un marito ufficiale tre quattro concubini questo indipendentemente dal loro sesso personale nello stato di ginni invece dove sono appunto contadini come estrazione vige la legge la regola della monogamia quindi solamente una moglie solamente un marito sia da una parte che dall'altra poi c'è lo stato di g lo stato di g non è maschilista come lo stato predominante di xin è uno stato estremamente dedito al commercio tanto che se la gioca con xin anzi a volte in certi frangenti risulta essere anche più ricco e sicuramente più capace per quanto riguarda proprio il commercio al suo interno moltissime situazioni commerciali vengono anche gestite dalle donne i negozi ristoranti e via dicendo ma al governo ancora ci sono solamente gli uomini come dicevo in principio nello stato di xin una volta ogni tre anni viene stabilito un concorso nei quali i principi in età da prendere moglie o anche che hanno voglia di pigliarsi pure qualche concubina in più scelgono tra il pubblico le varie principesse donne di famiglia benestante che arrivano proprio per la selezione e tutti gli stati sono obbligati a mandare qualcuno e qualcuno anche di una certa levatura ovviamente non la figlia del calzolaio quest'anno in questa in questo dramma che inizia proprio con la selezione le ragazze arrivano da otto dei nove stati o meglio sette da sette perché uno lo stato di quindi da sette dei nove stati i principi in età da moglie sono sei poi ce ne sono ancora tre che sono ancora troppo piccoli per essere ammogliati e c'è il principe ereditario che ha già una moglie che è dello stato di dai uno stato che gestisce le miniere di carbone e di metalli quindi estremamente potente dal punto di vista proprio della gestione delle miniere usate arriva il giorno della selezione dal paese di jin arriva lee 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 è la figlia del ministro del primo ministro del paese jin dove però in realtà sono poi alla fine tutti i contadini quindi non c'è nemmeno una reggia in quel villaggio in quel paese e lei l'unica cosa che ama fare è mangiare lei ama mangiare a prescindere e non ama molto queste prepotenze tra virgolette sulle donne cioè il fatto di utilizzare delle donne come merce di scambio per la pace tra i paesi ma è appunto figlia di due contadini seppur come nomenclatura sia elevata di rango arriva anche una principessa dello stato di g estremamente ricca buona d'animo ma che ha la tendenza a essere molto lenta nelle sue decisioni molto schiva non ama ma chiacchierare parlare con gli altri anche perché non riesce a tenere tanto dietro un discorso essendo molto rallentata con i pensieri ma sostanzialmente buona arriva anche la sorella della reggente della nazione di dan perché quest'anno partecipa anche dan e arriva con la sua spada le sue mille mila armi perché lei era un generale delle forze nello stato di dan una ragazza dello stato di jin che era figlia di una concubina non è non aveva una grande importanza nella sua famiglia ed era stata tra virgolette sacrificata in onore di queste alleanze un'altra nuovamente non figlia diciamo di matrimonio diretto ma figlia di un'altra concubina e dello stato di g di cui nessuno si interessava più di tanto in famiglia e l'hanno spedita lì per toglierla dei piedi e togliersi la rogna della selezione insomma inizia la selezione a leeway che poi è la protagonista non la vuole nessuno perché è una campagnola non si tiene granché non gliene frega molto dell'estetica delle cose varie tanto che quasi tutti i principi cercano di evitarla al contrario a ogni che sarebbe la ragazza che arrivava da g sacrificata perché figlia di una concubina decide che visto che comunque la sua vita dipenderà da dal marito da un uomo farà di tutto per cercare di diventare anche solo una concubina ma del principe ereditario convinta dagli insegnamenti postigli durante la sua giovinezza nel suo stato nella sua nazione in famiglia che la gestione della vita di una donna dipendesse proprio dal marito quindi lei si fa due conti e dice vabbè allora tra il marcia la muffa meglio essere concubina del principe ereditario piuttosto che sposare un principe qualunque che poi finisce relegato in qualche ministero e saluti a bracci e fa di tutto fino a farsi prendere effettivamente in casa dal principe ereditario lei è molto bella ci saranno un sacco di sorterfugi e di lotte di potere perché ovviamente tra fratelli seppur ci siano dei legami c'è sempre la mira al trono in realtà tutto questo barcello della linea al trono non ci sarebbe nemmeno stato perché tra fratelli tutto sommato si vogliono molto bene tutti quanti anche se c'è quello più viziato c'è quello più capriccioso c'è quello un po più tonto c'è quello imbecille proprio ma il principe ereditario è un fobico convinto che gli altri fratelli vogliono rubare l'affetto del padre la stima del padre la scena mentre gli altri fratelli a momenti manco ci pensano però il figlio ereditario il principe ereditario è figlio dell'imperatrice quindi è un figlio legittimo di matrimonio e c'è anche il decimo principe che è un principe di nuovo legittimo figlio dell'imperatrice che è snob imbecille per fortuna ancora troppo giovane che cerca disperatamente di avere una moglie ma nessuno vuole stare con lui perché è un montato di merda il principe ereditario è il secondo figlio perché il primo il più grande figlio di una concubina aveva già una moglie e due o tre figli e aveva deciso di seguire la carriera militare quindi di togliersi dalla corte da tutto e andare a pattugliare la frontiera con lo stato di mo dove erano molto più liberali più tranquilli si beveva si giocava a carte non gliene fregava niente a nessuno e viveva in santa pace per i cavolacci suoi senza starsi a impicciare nelle lotte di potere ma appunto il principe ereditario ovvero il secondo principe è maniacale ha sempre il terrore che tutti vogliono rubargli la scena il quarto principe è un suo tirapiedi è uno che non ha tanta spina dorsale figlio anche lui di una concubina e quindi in parte un po screditato rispetto al figlio ufficiale fa la tirapiedi al principe ereditario proprio nella speranza di ottenere qualche risultatino in più nella sua esistenza la moglie ovvero la ragazza che lo sceglie anche lei figlia di secondo letto del padre che è un ministro del paese di da a qualche mira e spera di riuscire a far star bene il marito ha scelto lui proprio perché le ricordava tanto se stessa figlia di concubina e in parte lasciata sempre in un angolo dai figli legittimi della sua famiglia fino a poi a essere tranquillamente mandata in sacrificio come matrimonio di convenienza per la pace chi se ne frega lei è più calcolatrice manipolatrice rispetto al marito che seppur vorrebbe salire qualche gradino non ha grandi idee non è molto geniale abbastanza nello standard medio non è cattivo ma estremamente interessato il terzo fratello è un imbecille se ce n'è uno ha deciso di creare il suo arem con tutte le donne che potevano rientrare nella sua idea astrologica di 24 segni zodiacali chiamati brezza di neve dolce tramonto fiori di primavera nomi che gli dava lui più la sua moglie ufficiale che gli era stata data qualche anno prima e che ormai è diventata amica amica con tutte ste concubine e tutte insieme non lo sopportano più perché sto qui è un cretino che pensa sempre solo prima a se stesso tipo c'è il compleanno di una delle mogli lui arriva al compleanno e gli dice come regalo ti ho fatto che mi sono comprato una giada perché così io sono felice so che tu sei felice per me è la concubina che lo guarda così come per dire sei un egocentrico di merda e anche imbecille insomma non lo possono vedere le sue concubine però le mantiene e quindi tutto sommato sopportano anche perché in quello stato nello stato di xian non possono decidere di andarsene le donne diventano proprietà effettiva del marito poi c'è l'ottavo fratello che anche lui è molto timido ha un difetto ha una gamba leggermente zoppo si tiene sempre in disparte non ama la confusione e poi si metterà con la principessa estremamente ricca ma anche lei un pochettino in ritardo e andranno d'amore d'accordo il quinto fratello è considerato il tonto della famiglia non vuole studiare non vuole posizioni nel parlamento ufficiale non gliene frega un tubo del trono lui vuole vivere da principe tutta la vita amare i suoi fratelli è un carattere buono remissivo tranquillo gli piace giocare a lui gli appioppano la moglie di dan cioè la guerriera che ogni tre per due lo mena perché lui non si sa spiegare la offende sempre e quindi lei lo pesta alla fine però comunque si troveranno bene insieme tanto da andarsi anche a cercare nel momento in cui ci saranno delle problematiche per le quali dovranno lasciarsi perché il sesto principe che per l'appunto il protagonista si chiama in zeng e gli verrà data o meglio lui stesso sceglierà proprio leeway perché lui ha un carattere abbastanza solitario non si fa mai molto notare dagli altri fratelli proprio per non incorrere in guerra e cose ma è un calcolatore estremamente intelligente e dato che leeway non la voleva nessuno e lui comunque una moglie se la sarebbe dovuta pigliare accetta di prenderla perché la trova simpatica che la becca in cucina si strafogna di roba da mangiare perché ha fame guerra di qua guerra di là bisticci nelle famiglie bisticci fuori il principe ereditario che man mano che in zeng aumenta le cose positive che dimostra al padre lui ha sempre più paura che gli voglia rubare il trono fino a tramare e fino anche a cercare di rovinare il fratello che aveva avuto appunto l'idea in zeng di togliere l'oro e l'argento come metodi di pagamento e di inserire invece la carta moneta allora il principe ereditario per cercare di distruggere diciamo questa idea che al padre sembrava così buona e così valida il suo fratello decide di falsificare la carta moneta non fosse che alla fine viene beccato dal padre stesso quindi lì lo chiamano sua signoria ma è una sorta di imperatore alla fine dello stato di xian e viene quindi cacciato via espulso quando viene tolto il titolo di principe ereditario appunto a lui che peraltro era anche un sacco di merda con la moglie a cui metteva le mani addosso la concubina che pestava a momenti la lascia morire quando sa che la figlia che aspetta è femmina la abbandona proprio e le amiche fanno di tutto per cercare di tirarla fuori dai guai alla fine ci riescono il quarto fratello che era il suo tirapiedi cerca in qualche modo di potersi avvicinare al trono ma mette quasi a rischio la vita stessa del fratello in zen l'imperatore lo viene a sapere e rischia grosso anche se poi verrà comunque solo relegato nella sua abitazione ci proveranno in diversi modi sia lui e sia la moglie a tentare di sopraffare i vari fratelli ma alla fine verrà comunque screditato davanti a tutti e il padre lo allontanerà dalla corte per un periodo finirà con in zen che viene definitivamente quindi il sesto principe il marito di leeway verrà dichiarato principe ereditario leeway nel frattempo con tutte le amiche che si è fatta quindi con la ex concubina del principe ereditario che quando viene cacciato via dal regno torna libera con la sua bambina e anche la moglie del principe ereditario che in principio era molto ostile nei confronti della concubina alla fine ci diventa amica la principessa di dan quindi la guerriera che cerca sempre di dare importanza alle donne e non riesce a concepire che in uno stato come xin siano gli uomini a comandare da loro comandano le donne instaureranno l'inizio della libertà proprio anche di lavorare e di gestire centri commerciali e quant'altro anche un'intera camera del commercio proprio per le donne di xin nel frattempo però succede anche che mentre leeway è stata presa al momento come concubina di yin zeng anche se yin zeng le ha promesso che sposerà solo lei e che visto che da lei usano i matrimoni monogami quindi con una sola moglie lui si era impegnato ad avere solo lei come moglie ma succede che la principessa del regno di jin deve essere maritata e il regnante del del regno di jin avendo conosciuto il sesto principe in una missione diplomatica chiede all'imperatore di xin di fargli sposare proprio in zeng all'inizio sono crisi e pianti perché leeway se la prende dice mi avevi promesso che sarei stata solo io invece adesso pigli già un'altra moglie io divento di nuovo concubina da noi così non usa allora lasciami libera dammi il patto di andarmene mi firmi il documento io me ne vado me ne torno a casa saluti abbracci ma in zeng non ci può fare niente è costretto dal padre a prendere questa principessa di jin fortunatamente però quando la principessa di jin arriva alla residenza dopo il matrimonio è tutto acchiappa in zeng e gli dice senti io ti dobbiamo parlare questo matrimonio non l'hai voluto tu e non l'ho voluto manco io io vorrei fare la diplomatica politica ma mio padre è ancora convinto che le donne dovrebbero stare a casa e quindi per ora ha combinato questa cosa facciamo una bella cosa io ti do una mano ad avvicinarti a una carica importante e tu poi in cambio quando si sono calmate le acque mi dai il documento di divorzio io porto via le chiappe me ne torno a casa mia a in zeng non gli sembra vero è felicissimo ne parlano anche con leeway e leeway capisce che comunque non era colpa di in zeng non è che lui ha voluto prendere un'altra moglie ma gliela ha pioppato il padre peraltro come moglie ufficiale perché era una principessa insomma diventano amiche e nel frattempo la principessa di jin insegna anche a leeway come si gestisce sia una casa sia un negozio e quant'altro tra l'altro il terzo principe quello scemo che ha 27 mogli è un mezzo commerciante perché sua mamma era imparentata con la reggia del regno di jin tanto che quando arriva la principessa che si deve sposare in zeng il terzo principe che è più vecchio di lei come minimo di 10 anni la chiama prozia e lei tutte le volte non guarda come per dire sei proprio un cartino comunque in generale è una storia di lotta delle parità e soprattutto quello che ha di bello è che sottolinea anche i lati negativi del rovescio della medaglia di tutti i nove stati tutti hanno dei difetti tutti non ce n'è uno che funzioni realmente nel rapporto interpersonale perché a jin le donne possono commerciare ma cariche pubbliche importanti non ne potevano avere gli uomini sì però ad esempio nella famiglia reale di jin la principessa che è quella che va momentanamente in sposa a in zeng è estremamente brava e diplomatica in politica mentre il fratello che sarebbe poi l'erede al trono leggermente più piccolo di lei è un imbecille se ce n'è uno con un capice lo stato di g da dove viene leeway la famiglia è monogama quindi solo una moglie solo un marito e i loro figli ma ad esempio lì c'è una libertà diversa ognuno dei due fa quello per cui è più bravo a fare non c'è una regola sessuale cioè ad esempio nella famiglia di leeway sua mamma è l'unica che ha imparato che è capace a spaccare la legna con l'ascia mentre il papà è quello più bravo a cucinare però ad esempio poi il papà è quello che si occupa degli animali perché gli animali preferiscono lui alla moglie e lei invece si interessa maggiormente delle semine e di costruire proprio fisicamente attrezzature che possono aiutare meglio nell'agricoltura quindi diciamo che ognuno segue un po' la sua vocazione e forse è la nazione lo stato dei nove che ha un rispetto maggiore reciproco per gli uni e per gli altri lo stato di dan è femminista che è il rovescio della medaglia del maschilismo quindi anche lì c'è una sottomissione in quel caso c'è la sottomissione maschile rispetto a quella femminile è una società matriarcale mentre a xin la società è patriarcale e sono entrambe con degli atriti e con dei problemi non indifferenti lo stato di mo ha nella sua filosofia del vinca il più forte effettivamente comunque una pulizia mentale dal punto di vista delle sessualità perché non importa che uno sia uomo o donna l'importante è che sia forte c'è però da dire che seppur crescano diciamo ruspanti in condizioni un po come se fosse la steppa ecco come tipo di pianure sono tutti allevatori di bestiame e anche se nascono e crescono abbastanza selvaggi a livello di forza fisica hanno comunque la supremazia gli uomini proprio a livello di fisico seppur ci siano delle donne per esempio la principessa una delle principesse dello stato c'ha 30 mariti nel suo harem mi fa di una battuta il terzo principe che c'ha l'harem con gli dice vuoi venire a far parte della mia collezione di mogli astrologiche tu diventerai la venticinquesima la stella del nord e lei gli dice ma facciamo una cosa vieni tu nella collezione mia dei 30 mariti che ce n'è uno per ogni giorno nel mese e mi manca quello di quando il mese ne fa 31 e lui ci rimane e scappa però ecco non c'è il giusto bilanciamento se non appunto in parte nella nello stato di g lo stato originale di lee way anche lì le idee però le mentalità sono abbastanza all'antica ristrette perché seppur ci sia libertà sessuale nel senso che non ci siano ruoli da uomo o da donna e tutti si rispettino gli uni con gli altri ad esempio è l'unica nazione delle nove in cui è obbligatoria la monogamia e anche questo limita la scelta perché comunque ci potrebbero essere delle persone che invece preferiscono avere più concubine o più concubini con concubine o concubine che sono d'accordo mentre invece nello stato di g è completamente vietato avere più di una sola moglie o di un solo marito sono molto all'antica per quanto riguarda certe ideologie ad esempio se la figlia il genero vanno a trovare i genitori a g non possono dormire insieme anche se sono sposati lui deve dormire col suocero per esempio e lei con la mamma o lei con la suocera e lui col padre hanno un po diciamo la mentalità seppur libera dal punto di vista dei ruoli sessuali abbastanza retrograda per quanto invece significa la vita di società e la vita comune finirà appunto comunque bene perché tra un dramma e l'altro perché ad esempio il quinto principe che è quello più tontolone verrà tra virgolette sacrificato dal padre quindi gli verrà tolto il titolo e tutto per salvare la faccia del sesto che vuole far diventare erede e il tonto nonostante è tonto capisce che il padre ha sacrificato un figlio in sua ha sacrificato lui per salvare l'altro figlio inoltre lui si era davvero poi innamorato della sua moglie di dan che lo menava dal mattino alla sera ma beh e per non farle del male decide di lasciarla di darle il divorzio però per farla andare via le inventa una scusa le dice che era innamorato di un'altra lei si offende si incazza lo mena come una zampogna e poi se ne torna a casa ma mentre lei se ne sta già tornando a casa lui si pente di quello che ha fatto e la va a cercare quindi lo costringono a mangiare peperoncino lui non aveva mai mangiato piccante non lo costringono a fare un sacco di cose di prove di test alla fine comunque torneranno assieme la concubina che la ragazza che era stata ai tan che era stata la concubina del principe ereditario decide di vivere da sola con sua figlia e di non dipendere mai più da un uomo apre dei banchi e dei negozi di trucchi e cosmetici fatti da lei con le erbe e inizia a vivere bene davvero alla fine tutti viveranno bene c'era ancora una postilla su cui poi tutte le ragazze insieme combattono e questa era una postilla che riguardava un po tutti gli stati cioè purtroppo questa postilla riguarda ancora anche i giorni nostri la poca importanza che si dava alla depressione post partum quando ai tangri partorisce la bambina che poi il principe ereditario la insulta gli dice di tutto la chiude ai tangi cerca di suicidarsi perché è entrata in depressione post parto poi grazie alle amiche grazie ai mariti delle amiche eccetera ne esce fuori e trova di nuovo le sue forze durante tutta la storia si capisce che in zeng il protagonista il marito di li wei ha un attrito radicato da tanti anni con la madre la madre è una concubina del principe ma tenuta in grande considerazione che ha avuto anche un altro figlio poi dopo che adesso ha circa 5 6 anni ma se a questo figlio sta dietro in maniera quasi ossessivo morbosa quando gli era nato in zeng non lo aveva nemmeno mai incontrato lo lasciava solo con le bali e non lo cercava non lo voleva vedere e lui si era sentito in colpa per tanti anni quando succederà il fatto di ai tang e la depressione post partum che la porterà quasi a uccidersi e via dicendo si verrà invece a sapere anche grazie a li wei che parla con la suocera che quando nasce nacque in zeng appunto la mamma di in zeng era giovanissima a 15 anni aveva partorito questo figlio ma era entrata immediatamente in depressione post partum all'epoca non si conosceva l'avevano quasi scambiata per posseduta poi c'è anche di mezzo una sciamana imbecille che tenta di far soldi inventando cose esoteriche a cazzum tra le altre cose e e quindi essendoci passata la suocera e poi essendoci passata anche la sua amica ai tang lee wei decide di sensibilizzare maggiormente l'opinione della gente in tutti gli stati anche proprio su questo grosso problema quello della depressione post partum bello perché è leggero è una una storia un po a telenovela puntate 40 episodi da circa 40 minuti l'uno che descrivono al meglio proprio le esistenze e le vite di ogni singolo personaggio in realtà io ho parlato di protagonista femminile maschile cioè lee wei e in zeng perché alla fine di tutto il discorso il tutto ruota intorno a loro ma in generale tutti i principi e tutte le loro mogli vengono descritti e raccontati e spiegati in maniera abbastanza ampia tanto da avere un quadro preciso delle storie di ognuno è veramente ben fatto e fa capire tanto per quanto riguarda proprio la nostra vita sociale di cosa in ogni società andrebbe riveduta e corretta è un po anche quello che viviamo sul pianeta terra no c'è la nazione matriarcale c'è la nazione patriarcale c'è il pensiero matriarcale e il pensiero patriarcale che sono i peggiori ci sono le idee comuni di società che molto spesso rovinano la vita la gente quando qualcuno mi dice ma 50 anni ti fai capelli azzurri a due colori sì e me li farò anche a 80 perché di quello che pensa il vicino di casa il lattaio mia madre mia sorella mia nonna mia zia e il cugino di terzo grado non me ne frega niente a me piacciono io vivo serena però purtroppo esiste ancora tanta gente soprattutto le persone che sono più facilmente manipolabili che si affidano ancora tanto all'opinione che gli altri hanno di loro non riuscendo a capire che se vivete per l'opinione di qualcuno non vivete più non vivete più perché nella vita lo dirò in eterno ci sarà sempre qualsiasi cosa voi facciate che vi mettiate il tailleur o che vi infacciate i capelli blu verdi e gialli ci sarà sempre il 50 per cento di chi conoscete che vi apprezza e vi stima comunque anzi di più e il 50 per cento che vi disprezzerà a prescindere non piacerete mai a tutti nessuno di noi piace a tutti nel momento in cui una persona comprende che non gliene frega un cavolo di piacere agli altri ha vinto tutto ha realmente vinto tutto e riesce a concentrarsi meglio sulle sue vere ricerche interiori ed esteriori che sia lavoro che sia famiglia che sia rapporto con i figli rapporto con gli amici che sia passatempi tutto ciò che riguarda la sua sfera di vita perché inizierà a vivere per se stesso e al massimo per chi davvero conta qualcosa sia questo animale pianta oggetto o persona un gran bel drama carino leggero semplice da guardare nel suo insieme ma che secondo me apre tantissimo sempre il solito discorso la mente il ragionamento nulla di paranormale tranne forse la sciamana imbecille ma quello è un altro discorso ma secondo me quando uno impara a ragionare non impara a ragionare solo sul paranormale impara a ragionare su tutto ciò che lo circonda perché il visibile e l'invisibile si mescolano fanno parte della stessa nostra realtà di tutti detto questo faccio a risalutare le mie tre assistenti dell'arem spiritico le di ghost le di sedaco le di nastrino e le di chizzone io invece pure prima c'era anche il ciccia ma mi sa che se ne è andato e niente e io vado avanti perché tengo una sacca mezza di cosa da fare ciao ciao